Sono in corso a Capaccio Pessumo le verifiche dell'Ufficio Tributi per scovare i vasori dell'Imo relative all'anno 2014 e 2016, che valgono 3,7 milioni di euro, circa 4 milioni di avvisi di accertamento indirizzate ai morosi, che non hanno provveduto a sanare la loro posizione rispetto all'imposta municipale unica. Lo scopo è verificare proprietà immobiliari e possibili diritti ad agevolazioni, riduzioni o esenzioni. Nei prossimi giorni, quindi, potrebbero arrivare le prime cartelle di accertamento per omessa denuncia della proprietà oppure per mancato versamento dell'imposta totale o parziale. Entro i canonici 60 giorni potranno pagare o presentare la documentazione e chiedere l'annullamento all'Ufficio Tributi.